Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima lezione del corso intitolato Pillole di R. Questa prima lezione avrà questo particolare formato grafico che per farvi vedere in realtà che con R si possono anche fare le presentazioni non belle ma si possono fare le presentazioni. Io sono Jacopo Cerri, sono borsista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino. Mi occupo principalmente di Biologia della Conservazione e di invasioni biologiche. Sono tra virgolette un utente medio di R, non sono né uno statistico né un informatico, una laurea in agraria. Il corso avrà questa struttura. Si tratterà di sette lezioni di circa 20 minuti l'una. Cominciamo oggi con quella sull'esplorazione dei dati e poi seguiranno altre lezioni sulla causalità, i test dell'ipotesi e la power analysis e poi delle lezioni un po' scollegate tra di loro ma interessanti per farvi vedere alcune cose integrative. Cioè in particolar modo faremo vedere che R può anche interfacciarsi con software per la statistica baesiana, in particolare con STAN tramite BRMS. Vi farò vedere che si può fare dei grafici un po' più carini di quelli normali con ggplot2 e che si possono fare dei testi con R Markdown. E poi vi farò vedere che R può essere usato anche per fare le mappe geografiche oppure che si possono fare l'analisi delle serie storiche. In questo corso è richiesta un minimo di infarenatura di R, così come un minimo di nozione sulla statistica e un po' di pazienza perché è il primo corso che faccio. Che cosa non c'è in questo corso? In questo corso non ci sono spiegazioni relative alla programmazione, non c'è un'introduzione a R o al suo linguaggio e non si parlerà dei modelli statistici perché ci sono già diversi libri di testo in cui questo argomento viene affrontato, non ce n'è bisogno. Lo scopo è farvi vedere che R può essere usato per una serie di cose e soprattutto può essere usato per analizzare dataset reali, non dataset simulati perché dataset simulati sono sempre troppo belli rispetto a quelle che uno trova nella realtà. Ci sarà un solo dataset simulato che è quello durante la Power Analysis perché poi la Power Analysis è in sé un grande esercizio di simulazione. Perché queste slides sono estremamente frugali? Tre motivi principali. Perché non si inceppa niente? è l'ambiente di default di R e c'era la possibilità di integrare il codice. In realtà poi mi sono reso conto che via via posso farvi vedere direttamente lo script e forse è meglio. Allora, cominciamo subito. L'esplorazione dei dati. Perché si devono esplorare i dati? Prima di analizzarli. Cioè noi non possiamo subito a bomba, cioè ho raccolto i dati e comincio già a trarre le mie conclusioni, per esempio con un modello di regressione OK. Questa cosa veniva fatta una volta perché una volta l'esplorazione dei dati era molto più faticosa, non c'erano software come R che facevano grafici, i grafici andavano fatti a mano, andavano disegnati. Era molto difficile, prendeva un sacco di tempo, per cui molto spesso si facevano cose tipo coefficienti di correlazione, un sacco di tabelle, oppure per esempio si faceva subito un bel modello di regressione a casaccio e si flottavano i risultati. In realtà questa cosa confonde moltissimo, e anzi è potenzialmente pericolosa, perché l'esplorazione dei dati è fondamentale per entrare nel dataset, per capire meglio che dati voi avete per le mani, soprattutto quando non li avete raccolti voi. Serve anche evitare degli errori grossolani, perché ci sono delle tecniche dei modellisti oppure dei test che fanno precise assunti sulla natura dei dati e sulla loro distribuzione, e senza un'esplorazione dei dati si rischia di applicarli in casi non ottimali. Quindi serve anche a scegliere i metodi più appropriati. L'esplorazione dei dati deve diventare una parte centrale del vostro lavoro, a me più o meno prende circa un quarto del tempo, a volte anche molto di più. Un bel lavoro, io ve lo consiglio, questo è stato scritto da Zur, Zur è un biostatistico, che ha scritto tantissimi ottimi libri di statistica, è pubblicato su Methods in Ecology and Evolution e è un protocollo per l'esplorazione dei dati in ecologia. Come funziona R? Allora, R è questo, anzi, R è questo, questo è RStudio. RStudio è un'interfaccia grafica di R. In realtà R nella sua versione originale è questo, cioè è un terminale in cui io posso digitare le cose e poi lui me le fa. Però capite che lavorare con questa cosa, con cui io per esempio ho iniziato una decina di anni fa, è abbastanza difficile. RStudio è molto più interessante, io vi consiglio di installarlo, tutti gli esempi sono fatti con questo software. Ha una parte in cui voi potete fare il cosiddetto script, quindi una parte in cui voi scrivete le cose e poi poi le lanciate. E poi sotto c'è il terminale. C'è la possibilità di vedere anche quali oggetti voi avete importato nell'ambiente, anche perché poi lo tra virgolette li salva. E poi c'è una parte anche per produrre grafici, che sono abbastanza interessanti. Poi consente di fare la presentazione, consente di fare il markdown. Allora, quindi questo sarà il nostro strumento. Come si importano i dati in R? Allora, solitamente il 95% del lavoro che farete voi e che faccio anch'io utilizza dati in forma tabulare. Cioè le unità osservazionali sono le righe, e gli attributi che voi avete misurato su ognuna delle unità osservazionali sono rappresentate dalle colonne. Le variabili sono in colonna, tra virgolette. L'oggetto classico è il data frame, in cui voi avete le unità osservazionali in righe e le variabili per colonna. Solitamente si importa come CSV con il comando read CSV, soprattutto se usate Excel, salvatelo in questo formato, perché le XLSX poi non sono stabili. In alcuni casi si può leggere come fa il tabulare se l'avete salvato in TXT con la funzione read table e in altri casi ci sono dei dataset che sono integrati in R, per cui quando voi caricate il pacchetto potete poi a sua volta importare se siete collegati a internet, non so se in realtà se siete collegati a internet oppure quando caricate il pacchetto. Comunque potete con la funzione data leggere un dataset. Questo è un dataset sul peso corporeo e il peso cardiaco dei gatti maschi. In questa lezione avremo tre casi di studio. Il primo e il più importante, che poi sarà utilizzato per gran parte del corso, è un dataset che parla di coccodrelle marine, questo rettilone che vive dallo Sri Lanka all'Australia, che vive nei fiumi, negli estuari e nelle acque salate, quindi in mare più o meno aperto, e che attacca l'uomo. Questo dataset contiene 1600 e passa attacchi dal 2000 a oggi all'uomo, che gli attacchi sono classificati, quindi quando noi abbiamo il dataset, lo vedete da qui, ognuna di queste osservazioni, ognuna di queste righe in realtà è un evento, è un attacco, e sono classificati, cioè informazioni sia sull'età della vittima, se è uomo o donna, il paese dove è avvenuto l'attacco e l'esito, perché alcuni attacchi sono stati mortali, altri no, e poi la taglia in metri del coccodrillo, perché il coccodrillo marino riesce ad arrivare a una lunghezza di oltre 7 metri, per cui capite bene che non tutti i coccodrilli sono uguali. Poi ci saranno altri due dataset che occasionalmente utilizzerò, uno è un dataset che si trova nel pacchetto boot, che è il peso corporeo, il peso cardiaco di gatti maschi, io lo chiamo il dataset dei gatti grassi, mi piace immaginarlo, sono tutti un po' così, e l'altro è un dataset che contiene il peso corporeo in grammi e la lunghezza della coda in millimetri di 300 e passa individui di gambero della Louisiana, misurati in Italia centrale, Procambarus Clarki. Quindi cominciamo subito a esplorare un po' i dati. Aprite R. Allora, la prima cosa da fare su R è caricare i pacchetti. R non è un tipo di software che ha tutto precostruito dentro, non è come Sass, per capirsi. Una serie di pacchetti ve li forniscono con la versione base di R e molti altri li dovete installare. Si può installare il pacchetto con il comando install packages, aperte le virgolette, voi vi installate per esempio Ananiar, che è uno dei pacchetti, evidenziate questa riga e poi gli date o run oppure controllo e invio. Lui si collegherà a internet, scaricherà il pacchetto e poi una volta che voi l'avete installato li evocate con il comando require. In alternativa va bene al posto di require va bene anche library. Deve diventare blu la scritta per capire che il comando è sensato. Io ho caricato dei pacchetti che sono l'abridate, che è un pacchetto che credo ormai sia installato proprio nella versione base di R, player, che è un pacchetto per manipolare i dataset in modo avanzato, Amelia, che è un pacchetto per i dati mancanti, e Ananiar. Anche Ananiar per i dati mancanti. Allora, carichiamo il dataset relativo ai coccodrilli, quindi questo è data frame. In R, quando voi ho caricato una roba, l'associate ad un oggetto con il comando freccetta meno. In realtà potete fare esattamente la stessa cosa con il comando uguale, è assolutamente analogo, soltanto io vi sconsiglio di utilizzarlo perché poi uguale verrà usato per altre cose. Come vi dicevo, allora diamo un'occhiata con head si può vedere le prime osservazioni del dataset che sono queste, cioè lui flotta di default, nel nostro caso head, nome del dataset, virgola, numero di righe, vi fa vedere le prime 20 righe. Potete ripetere la stessa roba con il comando tail. Con il comando tail vi fa vedere le ultime 20 osservazioni del data frame. Come vi dicevo, come è strutturato? Sostanzialmente qua ci sono i nomi delle variabili che sono state misurate su ogni attacco. Ognuno degli attacchi è un'unità osservazionale e si trova sulle dire. In realtà potete vedere la classe dell'oggetto, in questo caso è un oggetto di classe data frame, e la struttura con il comando str, che presumo significhi structure. Il comando str vi fa vedere quante osservazioni ci sono, 1664, quante variabili ci sono, 7, e poi il tipo di variabile. R solitamente rappresenta le variabili numeriche con int, che è integer, quindi numeri interi, oppure come numeriche, che sono i numeri decimali. Size crocodile è una variabile numerica. Poi le variabili categoriche le tratta come character oppure come factor, se sono ordinate. Di default lui tende a importare tutto come factor, se poi le volete voi trattare come variabili character, glielo dovete dire. Cominciamo a esplorare le variabili continue e l'esplorazione univariata. Le variabili continue sono quelle variabili tipo la taglia. Il nostro dataset contiene informazioni sulle taglie del coccodrillo e la variabile size crocodile, quindi taglia del coccodrillo. Io mi creo un dataset più piccolo in cui raccolgo semplicemente i dati completi sulla taglia del coccodrillo. Li sto dicendo praticamente nei dataset voi dovete il nostro dataset si chiama df. Quando volete estrarre qualcosa dovete aprire le parentesi quadra e ci mettete una virgola. Prima della virgola estrete le righe e dopo la riga, dopo la virgola, estrete le colonne. Nel nostro caso li sto dicendo prendimi quelle osservazioni del dataset in cui la taglia del coccodrillo non è un dato mancante. Dati mancanti si rappresentano come na not available. Infatti se voi vedete size crocodile per tirare fuori una variabile dovete fare nome del data frame dollaro size crocodile vedete che è registrata. C'è un sacco di dati mancanti nel foglio Excel quando lasciate la cella vuota R la legge come na che significa not available oppure nan in questo caso ho creato un dataset con le variabili complete. Infatti se piglio size vedete che qua c'è le variabili complete. Posso plottarmi l'istogramma e la distribuzione delle frequenze assolute. Vedete un po' come sono distribuiti. Questa è la lunghezza in metri del coccodrillo e questo è il numero di osservazioni. Si vede che la maggior parte delle osservazioni cadono fra i 2 e i 4 metri con un picco intorno a 3 verosimilmente la media o la mediana dovrebbe cascare intorno a questo valore. Si può aumentare anche il numero di categorie per ottenere un'immagine più a grana fine della faccenda. Si vede che scorporandolo in modo più accurato ci sono dei picchi. Questo probabilmente dipende dal fatto che quando registrano la taglia del coccodrillo siccome in molti casi non è possibile misurarla per bene anche perché preso un po' il coccodrillo qualcuno l'ha visto oppure viene catturato però non è che sta fermo e te puoi andare lì col metro a misurarlo con precisione lo classifichi come un coccodrillo di 2 metri invece di 2,10 oppure un coccodrillo di 3 metri invece che un coccodrillo di 3,05 metri vedete che per il fenomeno del rounding come dell'arrotondamento tendono a esserci dei picchi. Si può calcolare la media aritmetica oppure la mediana quindi R ha delle funzioni che consentono di calcolare in modo automatico tutti gli indici di tendenza la media aritmetica si calcola con min vedete qua che la media aritmetica dei nostri coccodrillo è 3,19 metri mentre la mediana è 3 metri la mediana vi ricordo che è il valore che taglia a metà la distribuzione ci sono anche dei comandi per calcolarsi automaticamente la deviazione standard con SD standard deviation la deviazione standard qualcuno di voi la conosce come scarto quadratico medio e poi la varianza R ha queste funzioni preimpostate perché poi vedrete nella vostra attività di analisi dati voi queste statistiche riassuntive o di dispersione le calcolate continuamente per cui non è che tutte le volte vi potete mettere a scrivere la formula poi può calcolare anche il range quindi vi fa vedere l'osservazione minima e l'osservazione massima nel nostro caso il coccodrillo più piccolo aveva una taglia di 0,8 e il coccodrillo più grande una taglia di 6,20 e poi c'è summary che produce il cosiddetto five number summary cioè vi dice tutte le informazioni chiave per caratterizzare la distribuzione vedete che il minimo è 0,80 è il massimo vi calcola la mediana la media e poi vi calcola i quartili la cosa interessante è che R consente anche di comparare i quantili di una certa distribuzione i quantili sono i punti della distribuzione per esempio che identificano una certa percentuale di osservazioni per esempio il quantile 0,2 raccoglie raccoglie tutte le osservazioni che hanno una taglia del coccodrillo compresa tra il minimo e il 20% più basso delle taglie sono il 20% inferiore dello spettro e della distribuzione del valore e R consente di comparare in modo automatico questi quantili rispetto a quantili di una distribuzione di riferimento come la distribuzione normale per esempio per vedere se la nostra distribuzione può essere approssimata con una distribuzione di Gauss questo è il cosiddetto cucuplot vedete che sulle x ci sono i quantili di una distribuzione gaussiana di riferimento e sulla y ci sono i quantili della nostra distribuzione campionaria idealmente quanto più i due sono associati quindi quanto più questi punti stanno su una linea quanto più fedelmente le nostre misurazioni possono essere approssimate da una distribuzione normale lo vedremo dopo in questo caso si vede che un po' per via dell'arrotondamento l'approssimazione non è tanto perfetta se invece ci guardiamo il peso dei gatti questi gatti maschi hanno BVT che è body weight il peso del corpo in chili e HVT che è heart weight il peso cardiaco in grammi si vede che per esempio una cosa misurata in modo più raffinato come il peso cardiaco in questo caso è approssimato molto meglio da una distribuzione gaussiana però l'esplorazione univariata può essere fatta anche con le variabili discrete per esempio nel nostro dataset ci sono gli esiti oppure c'è il paese dell'attacco per cui posso produrmi una tabella e visualizzare come sono distribuite i nostri attacchi in termini di conteggio tra i vari paesi poi questa tabella addirittura la posso rappresentare in forma grafica questa è una tabella delle frequenze assolute sono i conteggi attraverso un barplot R non sente rifare tutto questo con la funzione barplot ci mettete dentro la tabella di contingenza e l'eono automatico vi fa vedere quali paesi hanno più o meno attacchi per ora domina chiaramente l'Indonesia allo stesso modo è possibile produrre anche una tabella delle frequenze marginali per esempio con il comando prop table siete in grado di produrre una tabella che vi fa vedere le frequenze marginali scusate le frequenze relative poi a sua volta le frequenze relative le potete convertire in percentuali per cui potete vedere che l'Australia è al 5,35% degli attacchi l'Indonesia è al 50% e poi a sua volta potete plottarla non cambia nulla rispetto a prima però potete vedere la percentuale di attacchi come è ripartita tra i vari paesi l'esplorazione poi può essere fatta anche multivariata per esempio si può vedere come sono associate tra di loro due o più variabili in questo caso per esempio si può vedere noi possiamo dividere i nostri attacchi in attacchi fatali e in attacchi non fatali in cui la vittima è sopravvissuta ci si può vedere per esempio se i bambini quindi che aveva meno di 13 anni e gli adulti hanno avuto un esito diverso degli attacchi in effetti si vede a una prima vista che come frequenze assolute sembrano esserci delle belle differenze per esempio in una tabella delle frequenze relative si vede che il 69% dei bambini che è stato attaccato da coccodrilli è morto mentre soltanto il 52% degli adulti è andato incontro alla morte e poi questa cosa si può anche rappresentare attraverso il cosiddetto mosaic plot che è questa cosa qui il mosaic plot consente di vedere più o meno attraverso con l'altezza delle barre in questo caso il rettangolo chiaro rappresenta la proporzione di attacchi che sono fatali nelle categorie child o adult quindi bambino o adulto e vedete che sono più alte questo è l'ambiente base di R poi quando vi parlerò di ggplot vedete che c'è modo di produrre grafici molto più gradevoli si possono però esplorare anche due variabili continue con il cosiddetto scatter plot che poi è simile al grafico al classico grafico cartesiano viene molto bene per esempio se consideriamo la relazione tra peso corporeo dei gatti in chile e peso cardiaco per esempio per vedere come le due variabili sono associate e si nota che le due variabili tendono a covariare parecchio cioè si nota che il peso corporeo e gatti che hanno un peso corporeo abbastanza elevato tendono a avere anche un cuore relativamente grande lo scatter plot è importantissimo per l'esplorazione delle variabili continue lo scatter plot può essere utile anche per esplorare la serie storica io posso estrarmi l'anno dei miei attacchi di coccodrillo per esempio e io posso plotarmi gli attacchi con uno scatter plot in funzione dell'anno quindi voi vedete l'anno che va da 0 a 20 che è il 2020 vedete che mano a mano gli attacchi sono aumentati oppure volendolo posso fare con una linea e si può vedere che la linea tende ad aumentare questa è per l'esplorazione delle variabili questa in realtà è una variabile continua per una variabile discreta diciamo sì l'anno può essere considerata una variabile discreta diciamo che poi R consente anche di realizzare rapidamente cosiddetti box plot i box plot sono questi sostanzialmente è un modo per dividere la distribuzione dell'età delle vittime per esempio tra due gruppi per esempio tra attacchi fatali e attacchi non fatali in un box plot sostanzialmente noi si vede che c'è tutti gli indici di tendenza della distribuzione tipo praticamente questa barra più massiccia è la mediana del gruppo e poi c'è il minimo il massimo e i quartili si può vedere l'età delle vittime umane la distribuzione dell'età delle vittime umane tra attacchi che sono stati fatali e attacchi non fatali oppure box plot le possiamo utilizzare anche per esplorare se ci sono differenze nella taglia dei coccodrilli tra attacchi fatali e attacchi non fatali si vede che in effetti la distribuzione della taglia dei coccodrilli tra due tipi di attacco sembra essere diversa con la taglia dei coccodrilli che poi hanno realizzato attacchi fatali che è più alta degli attacchi che non hanno prodotto la morte della persona poi in realtà è interessante perché il discorso degli scatterplot uno può diciamo creare scatterplot per gruppi per esempio nel caso del dataset dei gamberi della Louisiana che è questo sostanzialmente è un dataset in cui ho gamberi maschi e gamberi femmine CTL la lunghezza della coda e weight il peso si vede che il peso non è proprio ben approssimato da una distribuzione gaussiana è abbastanza la distribuzione è abbastanza simmetrica non torna bene probabilmente andrebbe meglio approssimarla con la distribuzione gamma però la cosa importante è che io posso produrmi separatamente uno scatterplot per i maschi per esempio della relazione tra peso e lunghezza uno scatterplot per le femmine per esempio chiedendoli solo di farmelo con un sotto insieme delle osservazioni e poi si possono anche combinare due scatterplot voi qua vedete che è possibile produrre due scatterplot appaiati che mostrano qual è la relazione tra peso e lunghezza nei maschi e nelle femmine è interessante a volte perché consente di percepire subito le differenze qui si vede che la variabilità per esempio nel caso della variabilità delle osservazioni la relazione tra lunghezza e peso diventa via via più variabile al crescere della lunghezza nelle femmine mentre una cosa del genere non si osserva nei maschi questa relazione si dice tende ad essere più ateroschedastica poi l'ultima parte è quella dei dati mancanti però in realtà mi sa che ve la farò più avanti perché l'esplorazione dei dati mancanti si fa con ggplot niente questo è sostanzialmente la prima introduzione io vi ringrazio e spero di vedervi presto per la prossima buona serata l'esplorazione l'esplorazione di l'esplorazione l'esplorazione